Ladri di biciclette in azione ad Arezzo. L'ultimo colpo da circa 50.000 euro è stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì scorsi ai danni della rivendita alle mie spalle. Ci troviamo in zona a bel vedere, immediata periferia a retina, nelle ultime settimane, finita nelle mire dei ladri. In questo caso la banda di malviventi, forse proprio specializzati in furti in negozi di bici, è entrata in azione in piena notte, prima ha messo fuori uso la sala cinesca e poi ha forzato la porta d'ingresso. Una volta entrati i banditi hanno fatto razzia di biciclette, attrezzature e fondo cassa, circa 14 quelle che sono riusciti a portare via per un bottino da 50.000 euro, ad attenderli fuori probabilmente un furgone nel quale i malviventi hanno caricato la preziosa merce. A fare la mara scoperta, mercoledì mattina, il proprietario del negozio, che ha trovato la sala cinesca scassinata, la porta aperta e soprattutto il locale saccheggiato, sull'episodio sta facendo chiarezza la polizia intervenuta sul posto. Ancora molto turbato è il titolare della rivendita, che al momento preferisce non parlare. In una sola notte ha infatti perso gran parte delle sue preziose e costose biciclette.